...adesso magari in panchina si terrà caldo e vediamo se Coach Mazzona lo utilizzerà più avanti. Primo attacco per l'Umana con Diavara, arresto, tiro, canestro del francese che inizia subito molto bene. Ma ha preso un canestro da... dal Lituano. Bulleri, palla ancora per Marco Nato, molto coinvolti in questo avvio di secondo quarto. Sì, era una zona, poi sono passati a uomo e negli accoppiamenti Diavara è finito con Bordente. Ottima soluzione. Tutta la fisicità e l'atletismo... ...che gli piace. Decisamente, di nuovo più tre Caserta. Rosselli, cambio di fronte, lo scarico per Diavara, segno il francese, quanto mai prezioso in questo momento. Esatto, ottimo.